Giunge alla sua quarta edizione la rassegna culturale estiva incontra in biblioteca che prenderà il via l'11 luglio a Polla, organizzata dalla Proloco, dal Comune, in collaborazione con l'Associazione Volta Pagina e l'Associazione Artificio. Fortemente voluta dalla Presidente del Consiglio Comunale di Polla, Giovanni Corleto, sostenuta dall'amministrazione comunale di Massimo Loviso e coordinata dalla Presidente della Proloco, Maurizio D'Amico, la rassegna che mira a promuovere la lettura si terrà fino ai primi di settembre. Sono stati definiti i primi cinque incontri, a cui se ne aggiungeranno altri. Sarà dunque un'estate all'insegna del confronto e del dialogo attraverso parole scritte, narrate, raccontate, esperienze di donne, uomini e tematiche di respiro ampio e trasversale. La rassegna si svolge presso i giardini della Biblioteca Comunale Vincenzo Curcio di Polla, nell'intento di focalizzare l'attenzione anche su un luogo della cultura importante e attivo per tutto l'anno e punto di riferimento per molte famiglie, ragazzi e studenti. Il primo appuntamento, l'11 luglio, sarà alle 18 con Donne che salvano i libri, a cura dell'Associazione Progetto Sofia Donne verso la bellezza APS. Il libro, scritto da Silvia Corsi, Lucia D'Alessandro, Diletta De Caro e Lea Wagner, si legge in una nota, pone l'attenzione alle figure femminili che hanno operato e operano tuttora nel campo dell'arte e della cultura in un dialogo tra passato e presente. Il volume si apre con la narrazione delle storie di tre donne che si sono particolarmente distinte nella panorama culturale partenopeo dell'ultimo secolo, combattendo accanto alla figura centrale di Benedetto Croce per la salvaguardia del patrimonio librario della città, da Maria Giuseppina Castellano Lanzara a Maria Bacunina, passando per Guerriera Guerrieri. A questo appuntamento seguiranno gli incontri con Piera Carlo Magno e il suo ultimo libro, Solferino, Ovunque andrò, Antonio Giordano e la storia delle zampogne e Giovanni Bracco e le poesie d'amore. Inoltre, quest'anno la rassegna prevede delle letture al tramonto, in particolare i luoghi di polla, con Nico Piccolo e Samantha Elisio.